ciao ragazzi buongiorno non è un ultimo minuto è qualche consiglio di gioco sulle nuove proposte messe postate ieri su instagram su youtube e naturalmente sul mio blog mimo nazionale allora come avrete visto io ho aggiornato parecchio ho fatto degli aggiornamenti notevoli quindi molti mi hanno chiesto stamattina ma questo non si gioca più ma questo non si gioca più no io quando tolgo tolgo poi spesso volentieri voi sapete che la lotta italia mi fa uscire gli ambi secchi che tolgo però di un ambo che ho tolto vorrei parlarne io a prescindere che se l'ho levato e perché ha sorpassato i colpi di gioco e non lo giocherò più ma molti me l'hanno già chiesto stamattina ho detto di rigiocarlo se vogliono perché non si è sfaldato l'ambo in merito è il 60-78 a Bari come sapete questo ambo ha sorpassato i nuovi colpi di gioco e quest'ambo qua ci aveva già pagato l'ambo secco a nazionale come recupero e il terno secco è in quartina io l'ho voluto tenere in gioco fino a sabato sera perché reputavo che è un ambo di figura 6 molto molto interessante poi la lotta italia fa i suoi giochi sporchi e l'ho levato però vi dico tutti voi che mi state chiedendo ancora e me l'avete chiesto stamattina se volete rigiocare a Bari 60-78 rigiocatelo non c'è problema non è che l'ho tolto perché sono numeri di merda no l'ho tolto perché sono numeri che un ambo che ha già sorpassato i colpi di gioco ecco perché l'ho levato nulla vieta che essendo due numeri una ruota non si è sfaldato su Bari possa anche uscire in ritardo ragazzi a volte i numeri vanno oltre il 14esimo 15esimo 16esimo colpo molta gente ancora non ha capito un cazzo di rotto purtroppo loro sono ancora imbambolati da questi coglioni che sono su youtube e instagram che dicono che entro tre colpi vinci entro tre colpi non vinci intanto per cominciare entro tre colpi può essere una tua previsione ma non che tu intorti la gente dicendo che tre quattro colpi al massimo e la vincita c'è no non è così non c'è vincita non c'è sicurezza sulla vincita non diciamo cazzata alla gente quando si dà una previsione poi sta nel buon lottologo tra virgolette ancora molti di voi chiamano lottologi lottologi ma non si chiamano lottologi perché non esiste la parola lottologo ma ancora molti fatti specie di previsionisti fantomatici dicono che si chiamano lottologi no previsionisti di lotto sostengono che comunque ho perso il filo ma porca troia cosa stavo dicendo pensano che in tre quattro colpi si vince no 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 sta nel nostro buon senso poi magari lasciare maturare delle previsioni a nostro rischio e pericolo magari maturarle per sei colpi cinque sei colpi e poi darla dicendo ancora sei sette colpi allora sì che quindi la gente vince al secondo colpo ma in realtà per noi sono otto colpi ecco questo volevo dire avevo perso il filo ma l'ho ritrovato detto ciò diffidate da alcune persone che vi vendono metodi perché sinceramente cari previsionisti colleghi ma tu che vendi un metodo la gente non gliene fotte una minchia ti dico anche perché la gente vuole vincere vuole già i numeri sviluppati non è che devi star lì a divertirsi a fare i metodi certo poi la passione dei numeri chi è appassionato magari fa anche la sua ricerca la statistica i conteggi ma la gente vuole vincere ci sono alcuni metodi venduti non posso dire il nome di questi fantomatici previsionisti che non si capisce un cazzo e che la condizione non c'è mai quando c'è non si capisce niente e quindi le povere settantenni sessantenni ottantenni non capiscono un tubo e quindi poverini l'avete venduto una cosa di 50 60 100 200 euro che non ne possono far nulla capite cosa voglio dire e allora io vi dico a voi a voi persone che mi seguite siete quasi 7000 fra un po' raggiungo anche quelli che sono all'apice con gli iscritti comprati che non sono reali poi vi dirò anche chi sono questi personaggi che devono incominciare a tremare che non hanno gli iscritti reali li hanno comprati ma che schifo i miei sono reali stanno crescendo sempre di più allora io vi voglio dire una cosa voi che fate voi clienti che fate abbonamenti occhio diffidate da alcune persone da alcuni personaggi perché alcuni personaggi voi siete lì da 3-4 mesi e poi scappate da me gratuitamente o da qualcun altro molto bravo nel fare gli abbonamenti tipo l'Ottogianchi perché è una famiglia perfetta e vi accorgete vi sfocate con noi dicendo sono stata 4 mesi abbonata con e non ho vinto un cazzo oppure ho recuperato un misero ambetto o una misera ambato o un misero ambo su tutte poi vedo live su youtube naturalmente per un ambo in quartina su tutte mi viene da ridere ho un ambo secco dato a colpo a colpo e senti parlare a tutte le ruote ma è sempre un ambo secco ma io non le faccio neanche le live per queste stronzate io faccio live anche quando cioè io non faccio live scusate io non faccio live anche quando faccio l'ambo secco a ruota due numeri su una ruota sola ragazzi ma che vi devo dire voi continuate a seguire chi volete non c'è problema io tanto sono qua gratuitamente su youtube anche se avrete notato che youtube mette le pubblicità ma guardate che youtube si sta approfittando di me perché io non ho fatto niente con youtube non guadagno neanche un centesimo ma loro perché vedono che i miei video vengono visualizzati anche da 3-4 mila persone e loro mettono il video della pubblicità e questa cosa a me non piace non mi piace assolutamente va bene ragazzi occhio particolarmente agli ambi evidenziati in verde occhio ai tre ambi nella bacheca vi ho detto tutto? benissimo buona fortuna per stasera e per tutta la settimana ciao ragazzi